Da Petrizi un caro saluto al nostro gran priore d'Italia, Sua Eccellenza Giovanni Ferrara. Saluto dalla compagnia di San Lazzaro, dal corpo medici volontari, dagli ospitalieri e dal base. Aspettiamo presto a Petrizi. Saluti da Petrizi, Buona Petrizi Eccellenza. A presto, magari con un capitolo di investitura eccellenza. Saluto, Saluto Petrizi.